Amici Federico, il ragazzo con nome di fantasia che ho ospitato nel mio canale, vi lascio la scheda per guardare il video Un ex ludopatico vuole dare un consiglio su come provare ad allontanare le slot online che sono quelle che di più tentano i giovani soprattutto Vi lascio immediatamente alla sua videotestimonianza esquisita per il mio canale, anzi lo ringrazio ancora Ciao a tutti, volevo ringraziare il seduccio per avermi dato di nuovo l'opportunità di parlare Io sono ludopatico da tantissimo tempo, purtroppo Sono stato sempre vittima del gioco, solo che nell'ultimo tempo Ora mi sono disintossicato Ma per disintossicarmi ho visto il bene dell'inferno Veramente Nel proprio senso della parola ho visto il bene dell'inferno Adesso non voglio essere di curgarmi troppo Voglio essere il più veloce possibile Perché anzi ce ne piacerebbe parlare di più, però magari poi scoccio E quindi preferisco essere più veloce Io do un consiglio a questi ragazzi che Molti dopo questo video mi hanno detto se buccio L'essere molto uno che gli hanno scritto per dire appunto come possono uscirne Perché su Youtube e anche i vari influencer sponsorizzano questo gioco d'azzardo Questi slot con queste tecniche che poi in realtà sono farlock Io vi posso garantire al 100% delle tecniche che dicono loro Di provare un euro, 10 colpi, poi 5 colpi e 2 euro e altro e altro Sono tutte minchiate Sono tutte minchiate perché se la gente deve arrivare grosso o meno Arriva Loro guadagnano con le affiliazioni nei casino Con le affiliazioni E questo voi lo sapete ragazzi Voi lo sapete perché non esiste che loro vi passino un link E vi nascondono dal sistema .pip, bata pap Sono tutti minchiati Tutte cazzate Non vi nascondono niente perché loro hanno un assun tipo di controllo L'ADM è quella che gestisce i casino Con i certificati Gli altri manco i nomi perché sono tutti finti Che asperscono con i soldi E con subvisto subvisto Quelle dm del lavoro lì Non possono minimamente fare questi tipo di attività Loro si basano sul sistema di ruletto Se hai ruletto su solotta casuale Non c'è nessuno studio E infatti voi Vi posso garantire che quando fa Feci dei vincite Da su tutti vincite Da guida al cassa Loro guadagnano con le affiliazioni Che più vi fanno depositare E più lo guadagnano Come ne posso riuscire ragazzi Auto escludendovi dei casino ADM Auto esclusione Da tutti che siano ADM Qualunque sito ADM Ma anche li vogliono nominare Di quanto mi fanno schifo ormai Sono tutti quanti Con la possibilità di farvi Auto escludere a tempo indeterminato Voi facite questo E siete Siete nella pace O almeno la provate a essere Questa è la risposta che voglio dare Ai commenti che hai ricevuto adesso Non altro Per sapere appunto come uscirne E disintossicarsi da questa bestia L'auto esclusione eccetera ragazzi Lasciate perdere i luci Casinocca su tutti i truffi I casino Cioè Non li voglio Non li voglio nominare Di quanto mi fanno schifo Ma ripeto Non Non giocateci nemmeno negli altri Se vi viene il pallino Dopo che vi siete avuto scusi A me Mi era venuto ragazzi Vi Vi dico la sincera verità Mi era venuto Ma Allora Se fottono i soldi E E Poi non c'è niente Vi blocchono i soldi E poi non c'è niente Quindi Anche se vincete Poi non c'è niente Vi blocchono i soldi Vi fanno mandare i documenti E poi vi vedono i conti Quindi Un modo per disintossicarsi La discursione E Lasciate perdere I stimocchiati Vi trovate in giro Di sistemi E Sporcherie varie Che Sono solamente truffe Per farvi entrare Nei link Di sponsorizzazione Loro Di Affiliazione Sono così Loro Quell'anno Non ho visti Manco gli ocano Possibilmente Manco gli ocano Sentite dire a me Manco gli ocano E Io Spero di avere Altre Opportunità Per poter Parlare Perché Ne avessi così Dire Quindi Quindi Niente Se non davano Questa bestia E E Basta Ne E E E E Morning